In questa giornata internazionale delle lingue dei segni, celebriamo gli sforzi di tutta la comunità sorda italiana, che ci ha portati il 19 maggio del 2021, dopo una lotta lunga più di 40 anni, al riconoscimento della lingua dei segni italiana da parte dello Stato. Questa legge di civiltà e uguaglianza non è stata un punto di arrivo, ma una storica e fondamentale partenza per costruire una società che consenta a tutte le persone sorde l'esercizio concreto dei loro diritti. Oggi, però, è il momento di celebrare non solo la LIS, ma tutte le oltre 200 differenti lingue dei segni del mondo. In questa edizione vogliamo in particolare mostrare al mondo l'unità generata dalle lingue dei segni, ed è per questo che chiediamo ad ognuno di voi di fare un video in cui segnate «Le lingue dei segni ci uniscono» e di postarlo su tutti i social. Facciamoci sentire!